La voce del giornalismo ha perso una luce brillante. Oggi ci riuniamo per ricordare e onorare la memoria di un grande giornalista, un narratore straordinario che ha catturato il cuore di milioni di spettatori. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo tributo speciale. In un'emozionante rettifica televisiva, oggi, il mondo del giornalismo è scosso da una notizia, che ha lasciato tutti senza fiato. Andrea Purgatorio, il celebre giornalista, sceneggiatore e autore, ci ha lasciato in modo repentino, lasciando un vuoto incolmabile nella redazione della Sette. La sua voce eloquente e il talento narrativo lo hanno reso una figura amata dal pubblico e rispettata tra i colleghi. Questa mattina, nella frenetica Roma, ci ha lasciato all'età di 70 anni, dopo una breve, ma drammatica malattia. Con un passato di illustre servizio, al Corriere della Sera, Purgatorio, si era guadagnato una reputazione di giornalista instancabile ed erudito. I suoi reportage sulla criminalità, il terrorismo e le questioni di intelligence hanno gettato una luce acuta su temi oscuri e controversi. Ma il suo impegno non si limitava soltanto alla carta stampata. Con un'incredibile abilità nella sceneggiatura e la capacità di toccare le corde più intime del pubblico, Purgatorio, aveva dato vita a documentari di grande impatto per la Sette, tra cui l'indimenticabile Atlantide. La sua esperienza e competenza erano state condivise con giovani autori, che avevano avuto la fortuna di essere consigliati da lui. Tra gli ultimi frutti del suo lavoro, si distingueva la partecipazione al documentario Goh, dedicato al mistero di Emanuela Orlandi, una vicenda, che aveva affascinato e commosso milioni di spettatori. L'annuncio della sua scomparsa è giunto come un fulmine a ciel sereno durante una diretta, pronunciato con parole intense da Enrico Mentana, conduttore di Punta della Sette. Un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia, ha detto Mentana, sintetizzando il sentimento di tutti i colleghi e il profondo impatto che la sua scomparsa ha avuto sulla comunità giornalistica. Oggi il giornalismo piange, un talento eccezionale, un narratore senza pari che ha saputo raccontare storie con un'anima unica. La sua eredità nel campo dell'informazione sarà sempre ricordata e, mentre la redazione della Sette stringe intorno alla famiglia in lutto, il suo spirito vivrà per sempre, attraverso le parole e le immagini che ha regalato al mondo. Il lascito di Andrea Purgatorio continua a risplendere attraverso le storie che ha condiviso con passione e maestria. Se desideri essere parte di un pubblico informato e curioso, ti incoraggiamo a iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato su Reportage Avvincenti e Racconti Mozzafiato.